Dopo il nostro servizio denuncia, piovono a cascata su Dillo Telerama diverse segnalazioni. Noi, inizialmente, abbiamo fatto vedere la difficoltà sotto forma di barriere architettoniche in civiltà lungo tutta Via Lequile, dall'incrocio di Via Legrassi e sino ad arrivare alla fine della strada, prima di svoltare per il sottopasso di Monteroni. Oggi, invece, la situazione si sposta presso i Salesiani, sempre a Lecce. I video e le foto denuncia sono state inviate da un nostro telespettatore ormai esasperato. Come si può notare dalle immagini, questo marciapiede appare irregolare e non abbastanza grande. Inoltre, gli arbusti occupano gran parte dello spazio, rendendo difficoltoso il passaggio di carrozzine e passeggini, ma non solo. Una situazione, quindi, che crea una serie di difficoltà. Anzi, il telespettatore pensa ironicamente con un filo di sarcasmo che forse le tante piste ciclabili sparse per la città servirebbero non solo per le bici, ma anche per le loro carrozzine. Ma la realtà, come ben sappiamo, è decisamente diversa. Nel 2023 la città ancora non è totalmente accessibile. Ancora oggi la presenza di queste barriere architettoniche impedisce alle persone con disabilità motorie di muoversi liberamente, limitando l'accesso a servizi essenziali e riducendo così la qualità della vita.